cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezioso nome del signore con la parola in geremia capitolo 13 versetti 15 e 16 ascoltate porgete orecchio non insuperbite perché il signore parla date gloria al signore al vostro dio prima che gli faccia venire le tenebre prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo e voi aspettiate la luce ed egli ne faccia un'ombra di morte e la muti in oscurità profonda che parola seria del nostro dio domenica scorsa abbiamo parlato della sentinella sulle mura di sion ma ora il profeta di dio ci esorta dicendo non insuperbite la superbia ha già fatto cadere molte persone nel salmo 119 davide dice prima che mi umiliassi andavo errando anche oggi abbio bisogno di vera umiltà per riconoscere la parola del signore dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili per uscire da ogni errore il signore dimora nei luoghi elevati nel luogo santissimo ma è con colui che è contrito ed umile di spirito il nostro testo biblico inizia con ascoltate porgete orecchio questo è un importante prerequisito per acquisire la comprensione spirituale gesù stesso disse in giovanni capitolo 8 versetto 47 chi è da dio ascolta le parole di dio in questo tempo non è sufficiente ascoltare solamente un sermone su dio e sulla parola di dio no dio stesso deve parlarci attraverso la sua parola e il suo spirito il profeta geremia disse perché il signore parla se siamo da dio allora riconosceremo il suo parlare e ci piegheremo sotto la potente mano di dio il nostro atteggiamento verso un vero servitore di dio che dio utilizza come portavoce dimostra il nostro atteggiamento nei confronti di dio è stato il signore che ha parlato in ogni tempo e ha dimostrato di essere lo stesso fine ai nostri giorni il 22 dicembre 1962 il signore parlò al fratello brana in una visione e gli mostrò ciò che accadde in seguito il 28 febbraio 1963 egli vide per la prima volta la gloria di dio come sempre stato il caso con i profeti egli vide sette angeli avvolti in una nuvola soprannaturale e udì la voce del signore la nuvola di gloria era visibile a migliaia di persone più di 80 foto furono pubblicate a seguito del comunicato stampa del meteorologo james mcdonald una di queste foto la mettiamo spesso nei nostri opuscoli al popolo di dio deve essere ricordato che il signore ha parlato anche in questo tempo i sette suggelli sono stati aperti e i misteri nascosti sono stati rivelati ora è mostrato se siamo abbastanza umili da credere alle parole di dio nel nostro testo sta scritto inoltre date gloria al signore al vostro dio prima che gli faccia venire le tenebre la luce splendente del vangelo della gloria di dio rifulgia ancora nel volto di gesù cristo gesù disse la luce è ancora per poco tempo tra di voi camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va mentre avete la luce credete nella luce affinché diventiate figli di luce giovanni capitolo 12 versetti 35 36 in ogni tempo la parola di dio è stata rivelata dallo spirito santo una luce splendente per coloro che l'hanno creduta la parola profetica è di particolare importanza nella seconda epistola di pietro capitolo 1 versetto 19 ci viene detto abbiamo pure la parola profetica più ferma alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente il luogo scuro alla prima venuta di cristo la parola profetica si adempì in diversi modi la luce scaturì e tutti coloro che avevano creduto alla testimonianza di giovanni battista furono illuminati di lui sta scritto e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui il signore gesù stesso disse il popolo che stava nelle tenebre ha visto una grande luce era estremamente importante per i credenti di quel tempo vedere la luce della parola ad impiuta e camminare in essa nessuna attività religiosa ci è di alcuna utilità e nessun desiderio di convertire i non credenti ma il giudizio deve iniziare dalla casa di dio prima noi come credenti dobbiamo essere liberati da tutta la religiosità e dall'ipocrisia dobbiamo allontanarci da tutte le interpretazioni e considerazioni volgendoci di nuovo alla parola di dio allora il signore aggiungerà anche oggi le anime alla comunità come ai tempi degli apostoli molti credenti sono soddisfatti di se stessi la maggior parte di loro non sa nulla di ciò che dio ha promesso e ad impiuto in questo tempo si accontentano di sapere cosa c'è nella loro comunità o nella denominazione nelle alleanze o nell'ecumenismo a tutti i veri credenti e in questo tempo rivolge l'invito ad ascoltare ciò che il signore stesso ha detto che appartiene all'ecumenismo presterà attenzione a ciò che viene detto lì che appartiene a una congregazione presterà attenzione a ciò che viene detto lì ma che appartiene alla chiesa del dio vivente deve ascoltare ciò che lo spirito dice alle chiese nella prima epistola di giovanni capitolo 4 ci viene chiesto di non credere ad ogni spirito ma di esaminare gli spiriti per vedere se sono da dio ogni spirito che confessa che gesù è il messia che è venuto in carne e da dio non è certo una confessione formale di fede che tutta la cristianità ha fatto propria ma piuttosto la rivelazione di gesù cristo che dio si è manifestato in carne per parlare come paolo cito la parola in primo timotio capitolo 3 versetto 16 e senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà dio è stato manifestato in carne ogni spirito che non confessa ciò che tutti i profeti e gli apostoli hanno confessato per mezzo dello spirito non è da dio giovanni arriva a scrivere noi siamo da dio chi conosce dio ci ascolta oggi si direbbe che questa è presunzione ma non dobbiamo giudicare umanamente le cose bibliche ma solo divinamente l'apostolo aveva la giusta conoscenza di dio sapeva che il suo insegnamento era di origine divina quindi poteva scrivere chi conosce dio ci ascolta questo per noi è un punto molto importante anche in questo tempo solo quelli che conoscono dio ascolteranno la parola rivelata di dio e accetteranno ciò che il signore ha detto giovanni scrive inoltre chi non è da dio non ci ascolta per lui il problema della discussione non esisteva sapeva che chi non ascolta un servitore mandato da dio che parla per incarico di dio non ha conosciuto dio lui non perdeva tempo con i superbi ma si rivolgeva ai piccoli fanciulli che camminavano nella verità anche in questo tempo dio non ha inviato il suo profeta ai critici che sono ciechi e accecati dall'orgoglio ma ai piccoli fanciulli che camminano nella verità gesù stesso disse ai suoi discepoli che aveva inviato chi ascolta voi ascolta me e chi riceve voi riceve me nel nostro testo siamo esortati a camminare nella luce finché c'è la luce il profeta geremia scrive inoltre a coloro che non vogliono ascoltare e voi aspettiate la luce ed egli ne faccio un'ombra di morte e la muti in oscurità profonda la parola di dio brilla come una lampada splendente per coloro che hanno riconosciuto dio e hanno creduto in ciò che egli ha detto per ogni vero servitore inviato da dio è valida la parola chi è da dio e conosce dio ci ascolta beati tutti coloro che in questo tempo ascoltano il così dice il signore la parola di dio e camminano nella luce nella luce in tutta umiltà vorrei ripetere le parole che giovanni scrisse in quel tempo chi è da dio e conosce dio ci ascolta l'esortazione rimane valida ascoltate porgete orecchio non insuperbite perché l'eterno parla date gloria all'eterno al vostro dio prima che gli faccia venire le tenebre la vera umiltà è evidenziata dal fatto che prestiamo ascolto alla parola di dio e sperimentiamo l'opera di dio preghiamo signore nostro dio ti preghiamo di renderci veramente umili per ascoltare la voce della tua parola e del tuo spirito te lo chiedo nel nome di gesù amin che ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.